Salve, benvenuti su New Horizon ai confini della conoscenza. In questo video parleremo della misura delle distanze astronomiche utilizzando le onde radar, il cosiddetto Moon Bunch o Venus Bunch oppure Bunch con pianeti del Sistema Solare. Quindi vedremo come si possono ottenere misure dirette della distanza tra Terra e questi pianeti mediante le onde radar. Ma prima di partire se vi piace il canale di New Horizon non dimenticate di iscrivervi anche per essere avvertiti dei prossimi video. Le missioni Apollo e alcune sonde russe hanno lasciato sulla superficie della Luna alcuni specchi catarifrangenti. Questi specchi consentono di determinare la distanza Terra-Luna con la più alta accuratezza attualmente pensabile. Il principio è naturalmente molto semplice. Viene lanciato un raggio laser da una sorgente presente sulla superficie terrestre a coordinate note. Questo raggio laser viene lanciato verso uno degli specchi catarifrangenti riflesso e torna indietro sulla Terra. La misura del tempo di ritorno consente, nota la velocità della luce, di determinare la distanza Terra-Luna. Se questa misura viene fatta da punti diversi della superficie terrestre si può addirittura triangolare la Luna. Tuttavia, non vado oltre su questi sistemi e non approfondisco oltre perché il topic di questa serie è quello di determinare la distanza tra Terra e gli oggetti celesti più vicini senza far ricorso a informazioni o strumenti che provengono dalle agenzie spaziali. Un metodo efficace che si può fare completamente da Terra, addirittura come vedremo soltanto con i mezzi dei radioamatori, quindi senza utilizzare mezzi di agenzie spaziali o di enti governativi, che è quella del Moon Bunch, cioè vuol dire inviare un'onda elettromagnetica verso la Luna, un'onda radio. Quest'onda elettromagnetica viene riflessa dalla Luna, torna indietro, viene ricevuta e dal ritardo si determina la distanza Terra-Luna. Allora, per fare questo tipo di misura serve un generatore di onde. L'onda in trasmissione può essere scelta con una frequenza a 50 MHz e a 47 GHz. La modalità si può fare sia in onda continua che in onda impulsata. Ci sono varie tecniche. Serve un oscilloscopio e serve un'antenna che deve avere un'alta direttività e possibilmente deve essere a banda stretta. Il generatore d'onda manda il segnale sia all'oscilloscopio e sia viene mandato all'antenna. Poi l'antenna, che è anche ricevente, riceve il segnale e lo rimanda all'oscilloscopio. Il ritardo tra l'onda trasmessa e l'onda ricevuta è direttamente visibile nell'oscilloscopio misurabile e quindi possiamo andare a determinare, nota la velocità della luce, la distanza Terra-Luna. Allora, si usano come antenne, abbiamo detto delle antenne di alta direttività, possono essere o antenne paraboliche oppure antenne agi. Le antenne devono essere di alta direttività e di banda stretta. Questo è quello che vediamo nell'oscilloscopio. Se lavoriamo, per esempio, con un'onda impulsata, vediamo un primo pacchetto d'onde, che è quello che abbiamo trasmesso, e questo è il pacchetto d'onde riflesso, quindi possiamo misurare questa distanza e ovviamente, nota la velocità della luce, sappiamo quello che è lo spazio percorso dall'onda e quindi la distanza Terra-Luna. Molte volte il Moon Bounce è utilizzato anche proprio per trasmettere da un punto ad un altro della Terra, sfruttare la Luna come un qualche cosa per superare la curvatura terrestre, quindi trasmettere in un punto lontano sulla Terra. Allora, abbiamo parlato di antenne che servono ad alta direttività. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo un'antenna, l'antenna, a seconda della sua geometria, trasmette l'onda elettromagnetica in direzioni preferenziali. Ci sono anche le antenne isotropiche, ma non conviene utilizzarle perché le antenne isotropiche emettono in tutte le direzioni, quindi l'energia è distribuita in tutte le direzioni, mentre a noi conviene che tutta l'energia sia concentrata in uno stretto angolo che poi deve andare verso la Luna. Definiamo in modo un po' più concreto il concetto di direttività. La potenza radiante di un'antenna è sostanzialmente il vettore di pointing integrato su tutta una superficie sferica che avvolge l'antenna. E questa è la potenza che è stata irradiata complessivamente in tutte le direzioni. Vi ricordo che il vettore di pointing altro non è che l'energia nell'unità di superficie e nell'unità di tempo che viene trasmessa da un'onda elettromagnetica. definiamo U uguale R quadro per W rad dove R è la distanza tra l'antenna e un punto dove vogliamo determinare il campo elettromagnetico e la potenza trasmessa. W rad è il modulo del vettore di pointing in una certa direzione. Se noi andiamo a dividere U per P rad diviso 4 pi greco che è la potenza media emessa nell'unità di angolo steradiante dall'antenna otteniamo la direttività. Se ci andiamo a scegliere la direzione dove U è massimo ovvero dove il modulo del vettore di pointing è massimo e dove l'antenna quindi sta trasmettendo il massimo della sua energia otteniamo invece la direttività massima. Ora capite che se per esempio abbiamo un'antenna che emette in modo isotropo in tutte le direzioni andiamo a vedere che questo U max sarebbe proprio P radiante diviso 4 pi greco quindi la direttività massima sarebbe 1 quindi 1 è la direttività di un'antenna che emette in modo isotropo più quindi alta la direttività più l'antenna emette tutta la sua energia verso una direzione preferenziale tipo questa vedete che emette la gran parte della sua energia in una direzione preferenziale e queste sono le antenne che ci piacciono perché ci consentono di concentrare l'energia in una direzione che è quella che ci serve della direzione Terra-Luna parlare di antenna ad alta direttività è la stessa cosa e si parla spesso di antenna ad alto guadagno è un altro termine che sentite più spesso semplicemente qual è la differenza? che il guadagno fa riferimento alla potenza che andiamo a emettere dentro l'antenna perché in realtà l'antenna è fatta secondo questo circuito elettrico cioè è fatto da un generatore di onda poi c'è l'impedenza del generatore c'è una linea di trasmissione che quindi porta il segnale elettrico all'antenna e poi l'antenna è fatta da un carico induttivo e capacitivo e un carico resistivo e quindi praticamente solo una parte dell'energia che noi andiamo a emettere tramite il generatore dentro il circuito che contiene l'antenna finirà l'antenna e sarà trasmesso quindi la direttività per l'efficienza che ci consente proprio di tenere conto che parte dell'energia che viene emessa dal generatore è dispersa perché magari parte del segnale elettrico in guida d'onda viene riflesso e torna indietro e quindi si perde questa energia oppure ci sono le perdite resistive considerando che soltanto una parte dell'energia del generatore finisce all'antenna e poi viene trasmessa ecco che si parla di guadagno moltiplicando l'efficienza per la direttività quindi sostanzialmente guadagno e direttività sono la stessa cosa spesso si parla di antenne ad alto guadagno che vuol dire antenne che emettono l'onda elettromagnetica in una direzione stretta e preferenziale senza entrare nello specifico della teoria delle antenne ma bisogna sapere che un'antenna che trasmette ha tre range di funzionamento c'è una regione di campo vicinissimo dove si sta formando l'onda elettromagnetica poi c'è una regione intermedia che è quella di Fresnel e poi c'è la regione di Fraunhofero del campo lontano che si è abbastanza lontani dall'antenna in questa regione il campo elettrico e il campo magnetico possono avere soltanto componenti lungo le direzioni azimutali o lungo l'angolo di altezza non possono avere componenti radiali quindi insieme al vettore di propagazione creano una terna di vettori e il vettore di pointing sarà sempre perpendicolare al campo elettrico e magnetico perché è il prodotto vettoriale ma sarà anche lungo la direzione di propagazione dell'onda in casi pratici delle radiocomunicazioni siamo sempre nella regione di Fraunhofero per inciso perché la regione di Fraunhofero è una regione dove siamo a una distanza molto più grande di almeno un ordine di grandezza più grande sia delle dimensioni reali dell'antenna che della lunghezza d'onda del campo elettromagnetico che andiamo ad utilizzare c'è una condizione matematica ma non la voglio esplorare per non appesantire questo discorso un'altra cosa importante è che un'antenna può essere utilizzata sia in modalità di trasmissione che in modalità di ricezione quando è in modalità di trasmissione naturalmente si parla di direttività o di guadagno che abbiamo visto essere sostanzialmente il grafico polare che ci dice in quali direzioni preferenziali l'onda si propaga vedete per esempio un grafico polare come questo ci dice che il massimo campo elettrico lo abbiamo in questa direzione lungo l'asse Z massimo campo elettrico oppure massima energia trasmessa dall'onda elettromagnetica quindi poi vedete mano a mano che io mi sposto angolarmente verso i 90 gradi il campo elettrico qui sta diminuendo e poi però vedete che ci sono anche dei lobby secondari che significa che ci sono dei massimi relativi di trasmissione dell'onda elettromagnetica anche in queste altre direzioni e questo vedete chiarisce il concetto di direttività mentre invece in ricezione si parla di altri concetti come per esempio o la lunghezza efficace che è un vettore ed è vedete tale che il voltaggio che si trova ai capi dell'antenna pensata come circuito aperto è dato dal prodotto scalare tra il campo elettrico incidente e questo vettore che è la lunghezza efficace dell'antenna che è associato all'antenna vedete che quando questi due vettori sono allineati perché sarebbe il prodotto dei moduli per il coseno il voltaggio che viene dato nel circuito dell'antenna in massimo un altro concetto importante è l'area equivalente dell'antenna l'area equivalente dell'antenna altro non è che il rapporto tra la potenza in watt che abbiamo al carico del circuito accoppiato con l'antenna diviso la potenza nell'unità di superficie dell'onda elettromagnetica incidente e come vedete adesso senza fare tutti i passaggi e le considerazioni di fisica ma perché ovviamente non è questo il topic di questo video ma la cosa interessante che voglio farvi vedere è questa equazione qui cioè vedete che sostanzialmente anche l'area efficace dell'antenna è uguale a un certo fattore per vedete la direttività quindi questo che cosa vuol dire che dove massima la direttività sarà massima anche l'area equivalente quindi determinata una direzione da dove l'antenna in modalità di trasmissione trasmette con la massima potenza la stessa direzione sarà quella che in modalità di ricezione mi darà il massimo segnale allora quando il campo elettromagnetico proviene da quella direzione allora vediamo concretamente di capire come funziona il discorso del Moon Bunch ma potrebbe essere del riflettere onde elettromagnetiche su qualunque pianeta o corpo e poi riceverle altro non è che quella che poi è l'equazione dei radar quindi c'è un'antenna trasmittente c'è un'antenna ricevente ora nel nostro problema in genere le due si trovano nella stessa posizione perché coincidono e questo poi porta naturalmente a una semplificazione dell'equazione dei radar vedete molto semplicemente la potenza che viene assorbita dal target è data da quella che è trasmessa dall'antenna trasmittente per una sezione d'urto che sarebbe l'area efficace che il target mostra all'onda elettromagnetica è un parametro che sta a indicare che non tutta l'energia che arriva al target sarà poi assorbita e quindi riflessa la potenza che arriva al target che per esempio può essere la luna è la potenza trasmessa dall'antenna trasmittente diviso 4 pi greco r quadro perché sapete che l'intensità dell'onda elettromagnetica va inversamente proporzionale al quadrato della distanza e per il guadagno che è una funzione degli angoli polari e azimutali che ha il target rispetto al sistema di riferimento dell'antenna trasmittente ora dopodiché questa energia assorbita dal target che per esempio può essere la luna viene diffusa scatterata quindi questa energia che gli è arrivato è sigma potenza trasmessa per il guadagno che si può anche esprimere come l'efficienza per la direttività diviso 4 pi greco r quadro che cosa succede? che questa energia praticamente torna indietro verso l'antenna quindi deve fare un altro percorso deve fare quest'altro percorso qui r2 e quindi di nuovo perderà energia con il quadrato della distanza quindi vedete che compare anche un r2 al quadrato qui a questo punto questa intensità in watt su metro quadro che abbiamo visto essere anche il modulo del vettore di pointing della radiazione elettromagnetica moltiplicato per l'area equivalente dell'antenna ricevente ci dà la potenza ricevuta dall'antenna ricevente che vedete sostanzialmente la cosa importante è che dipende dal prodotto dei guadagni al denominatore compare il prodotto r1 per r2 al quadrato perché ovviamente r1 vi ricordo che è la distanza che va dall'antenna trasmittente al target r2 è la distanza che va dal target all'antenna ricevente naturalmente nel nostro esperimento quando antenna trasmittente e ricevente coincidono r1 sarà uguale a r2 e quindi abbiamo una distanza alla quarta potenza quindi se sto facendo un boom bunch dalla luna devo ricordarmi che questa potenza si scalerà come 1 diviso la distanza terra-luna alla quarta potenza e così via da terra-marte si scalerà come 1 diviso la distanza terra-marte alla quarta potenza quindi questo di fatto e nella pratica limita questi esperimenti almeno per le tecnologie che ci sono adesso ai pianeti e ai corpi del sistema solare un buon testo su cui approfondire queste cose antenna theory allora vedete questo è un sito che potete vedere perché è un esperimento proprio per la scuola l'hanno proprio fatto per la scuola quindi praticamente bisogna farlo sempre con l'aiuto di un radioamatore perché questi esperimenti si devono fare con l'aiuto di un radioamatore perché i radioamatori sono gli unici autorizzati a trasmettere onde radio e quindi bisogna farli sempre con l'aiuto di un radioamatore serve un'antenna ad alta direttività o alto guadagno ma anche idealmente banda stretta in modo che si possa poi filtrare soltanto la frequenza in una banda rispetto alla frequenza dell'onda che è stata trasmessa in modo poi da filtrare segnali che possono provenire da altre sorgenti serve un generatore serve un oscilloscopio naturalmente e questo ovviamente è quello che poi si vede si può misurare quindi il ritardo tra un pacchetto d'onda che è stato trasmesso da terra e il pacchetto d'onda riflesso dalla luna è ricevuto mentre questo questo tempo che misuriamo sull'oscilloscopio dobbiamo moltiplicarlo per la velocità della luce e dividerlo per due perché ci andate a ritorno e questo ci dà la distanza terra luna ecco vedete qui per esempio è un esempio di radioamatori che fanno questo esperimento questa misura vedete che cosa utilizza utilizzano in questo caso un'antenna parabolica e se ci fate caso in questa antenna parabolica è accoppiato un telescopietto quindi perché deve essere orientato nella direzione dove c'è la luna queste sono antenne ad alto guadagno quindi vanno orientate verso la luna in modo che si spara l'onda radio quest'onda rimbalza sulla luna e torna e si sfrutta la direttività o l'alto guadagno dell'antenna che tra l'altro ci consente di andare a filtrare i segnali radio che provengono da una direzione particolare quindi naturalmente noi sappiamo che avremo disturbi di tutti i tipi ma noi già andiamo a selezionare una direzione particolare col telescopietto in dotazione ci si va a puntare la luna e poi c'è tutta l'altra attrezzatura c'è l'oscilloscopio il generatore d'onda un computer per elaborare i dati ma insomma è tutto qui l'altra cosa che dobbiamo anche notare è che noi naturalmente nel momento che noi andiamo a fare questo esperimento se lo vogliamo fare in più punti della terra non solo possiamo determinare la distanza terra-luna o meglio la distanza tra i due osservatori sulla terra e la luna ma possiamo anche triangolare la luna e determinarne tridimensionalmente la posizione esatta su questo sito trovate invece varie misure di radioamatori fatti con diverse frequenze perché poi ci sono varie possibilità con cui si possono fare queste misure e varie combinazioni possibili per ottenere questo tipo di misura e questo è un sito che ne parla lo stesso principio del Moon Bunch si utilizza con i radiotelescopi per determinare la distanza tra la terra e gli altri corpi celessi del sistema solare Venere Marte Giove e si possono determinare con grandi precisioni queste distanze dando quella che poi una conferma diretta sulle distanze tra terra e corpi celesti e non solo si traggono altre informazioni tipo dall'effetto Doppler si trae l'informazione di quanto veloce viaggia questo corpo celeste rispetto alla terra quanto si allontana o quanto si avvicina e si possono misurare le posizioni in ogni istante e quindi si possono determinare le caratteristiche orbitali di tutti i corpi celesti di costruire l'orbita punto per punto e avere quindi quella che è una misura diretta di ogni parametro dei corpi celesti del sistema solare e lo vedete per esempio su questo articolo che spiega queste cose ecco interessante invece anche la misura della distanza terra venere perché grazie alla misura della distanza terra venere con precisione se voi vi ricordate il video che ho fatto sul transito di venere sul sole per misurare l'unità astronomica della distanza terra sole vi ricorderete che noi abbiamo misurato il rapporto tra la distanza terra venere e la distanza terra sole che è un dato che serviva per fare poi il calcolo della distanza terra sole attraverso l'angolo di massima elongazione e questo era un modo l'altro modo era attraverso le leggi di che plero ma c'è in realtà un terzo modo che è la misura diretta della distanza terra venere con radar quindi con i radiotelescopi e questo ci dà quella informazione che poi ci serve alternativamente alla misura dell'angolo di massima elongazione o dell'utilizzo delle leggi di che plero a determinare l'unità astronomica naturalmente si potrebbe utilizzare l'informazione dell'angolo di massima elongazione insieme alle leggi di che plero più la misura diretta della distanza terra venere senza fare la misura del transito di venere quindi la misura della corda che venere descrive sul sole osservata da punti diversi della superficie terrestre e noti come abbiamo visto nel video ora la misura della distanza diretta terra venere per poterla fare e ricevere un segnale apprezzabile come abbiamo visto prima naturalmente la potenza del segnale viene persa con l'inverso del quadrato della distanza all'andata poi c'è l'inverso del quadrato della distanza al ritorno e quindi praticamente se le due distanze sono uguali come avviene in un esperimento di venus bunch naturalmente la potenza sarà persa come l'inverso della quarta potenza della distanza quindi capite che se sulla luna abbiamo un moon bunch che anche è rilevabile dagli astrofili quindi con mezzi tutto sommato modesti alle distanze invece planetarie è chiaro che ci vogliono dei mezzi più potenti e infatti fino agli anni alla fine degli anni 50 e primi anni 60 queste misure non erano possibili per renderle possibili c'è voluto il grande sviluppo dell'elettronica il grande sviluppo dei radar che erano essenzialmente per scopi militari ma poi sono stati utilizzati nella radioastronomia per fare queste misure ed è stata tutt'altro che banale la tecnologia necessaria a ottenere dei segnali di eco rilevabili per poter misurare per esempio il Venus bunch o il bunch di altri pianeti e che cosa si è dovuto sviluppare essenzialmente il Maser e il Kleinstrom che sono degli amplificatori di microonde sostanzialmente e quindi necessario produrre già in trasmissione un'onda sufficientemente potente perché pure se questa potenza viene persa con la quarta potenza della distanza comunque se io lancio onde sufficientemente potenti troverò un segnale poi rilevabile in ritorno dall'elettronica servono potenze tipo di 150 kilowatt insomma anche vedo potenze di picco utilizzate di 2500 kilowatt 5000 kilowatt addirittura quindi capite che servono potenze molto elevate che sono appunto stati ottenibili soltanto dopo che si è avuto a disposizione appunto sistemi come i Maser il Kleinstrom per di più un nemico di queste misure il rumore infatti in elettronica il rumore si mangia il segnale coerente che invece noi vogliamo andare a misurare e quindi bisogna minimizzare questo rumore un modo per minimizzare questo rumore e tenere freddo il sistema a temperature bassissime poche decine di gradi kelvin e per fare questo naturalmente c'è un apparato impegnativo per tenere a queste temperature così basse l'elettronica del sistema per modo da minimizzare il rumore e far risaltare invece il segnale coerente prodotto dall'onda che ritorna da Venere per esempio e poterlo rilevare quindi si è avuto un grosso sviluppo dell'elettronica ma anche nell'elettronica di ricezione prendere il segnale e elaborarlo per cui alla fine questi esperimenti con successo sono stati possibili soltanto dalla fine degli anni 50 in poi e hanno consentito appunto la determinazione attraverso appunto la misura esatta della distanza Terra-Venere dell'unità astronomica con un'accuratezza superiore a quella che si ottiene con la triangolazione da Terra usando le posizioni apparenti del Sole per esempio oppure utilizzando il transito di Venere sul Sole realmente questi sviluppi hanno consentito non solo di misurare la distanza di Venere ma anche di tutti praticamente gli altri pianeti del sistema solare in molti casi comprese le lune di questi pianeti tipo le lune di Giove o Titano eccetera dipende anche dalla sezione d'urto del corpo e quanto riflette le onde radio ma le principali lune si sono viste tutte ora quando vi ho parlato della triangolazione del Sole utilizzando esclusivamente dati sulla posizione apparente del Sole misurabili da Terra quindi verificabili da astronomi e da strofili e col metodo ai minimi quadrati che ho implementato nel MATLAB quindi con calcoli che chiunque può fare a casa propria e abbiamo trovato una distanza di 145 milioni di chilometri per la distanza Terra-Sole che è meno accurata di quella che si trova con la radioastronomia che sono 149 milioni di chilometri rotti nei vari esperimenti però vedete con questo metodo abbiamo un metodo facile e alla portata di tutti che ci consente di determinare la distanza tra Terra e Sole con dati esclusivamente verificabili anche dagli astrofili e producibili dagli astrofili e oltre una matematica che ciascuno di noi può implementare in un calcolatore facendo un programma MATLAB e andando a fare la triangolazione del Sole utilizzando invece il transito di Venere siamo andati ancora più vicini alla misura trovando circa 149 milioni di chilometri però vedete in entrambi i casi io preferisco questi metodi che fanno affidamento soltanto su ciò che possono rilevare anche gli astrofili in questo caso era l'astrofotografia cioè semplicemente fotografare il transito di Venere da diversi punti della Terra oppure nel caso della triangolazione del Sole misurando la posizione apparente del Sole nello stesso istante da diversi punti sulla superficie terrestre per esempio in modo da togliere l'angolo azimutale e la propagazione dell'errore dovuto all'angolo azimutale è ideale fare questa misura in un solstizio quindi si prende il punto dove il Sole è a perpendicolo e poi si prendono altri osservatori posti lungo lo stesso meridiano e si fa la triangolazione in questo modo utilizzando appunto i dati di posizione apparente del Sole e dati in pasto al programma MATLAB che ho fatto che poi fa un metodo dei minimi quadrati che va a cercare il punto dove le rette direttrici hanno il massimo avvicinamento questo lo avevamo visto in questo video ecco questi metodi diretti sono alla portata di tutti naturalmente bisogna studiare c'è una matematica dietro ma sono alla portata di tutti chiaramente invece il bunching di Venere non è alla portata di tutti ma sono delle grandi installazioni radar che spesso sono anche collegate con grandi centri il GPL eccetera che poi non rispondono pienamente al quesito di questa serie che invece vuole determinare i corretti ordini di grandezza delle distanze astronomiche senza far ricorso a informazioni che possono venirci dai grandi enti governativi vuoi che siano NASA vuoi che siano militari eccetera faccio questo discorso perché mi ricordo il commento di Valentino Tera che dice insomma non c'è nulla che si possa fare in modo autonomo c'è sempre bisogno di qualcun altro che ne pensi della determinazione dell'unità astronomica misurando la distanza Terra-Venere con un bunching di onde radio beh certo in realtà quello che puoi fare in modo autonomo è proprio la triangolazione del sole dai dati astronomici che ti puoi andare a prendere puoi fare il calcolo matematico ti puoi fare un MATLAB e puoi fare in modo autonomo i tuoi calcoli invece con questa tecnica del bunching devi ricorrere a grandi installazioni e autonomo fino al bunching Terra-Luna perché lì ti puoi appoggiare a un radioamatore qualunque ma non sei più autonomo se devi fare il bunching Terra-Venere o Terra-Pianeti però ripeto invece se fai con la triangolazione utilizzando i dati astronomici che ora sono molto accurati in termini di altezze azimuth oppure anche di ascensione retta e declinazione con le coordinate equatoriali dati astronomici che non sono contestabili perché le posizioni apparenti del sole e della luna sono misurabili da tutti astrofili astronomi e quindi sono dati incontestabili ti puoi fare dei calcoli che ti danno sicuramente un corretto ordine di grandezza per farti un'idea chiara di come è fatto il sistema solare e non attaccabile in nessun modo certo la matematica non è semplicissima ve l'ho fatta vedere in quei video però ripeto se uno deve passare dal dato che terra sole distano 150 milioni di chilometri circa perché l'ho letto su wikipedia e la terra luna sono 380 mila chilometri perché l'ho letto su wikipedia deve passare a dimostrarlo se la richiesta dei terrapiattisti è di dimostrarlo senza andare a fidarsi di enti esterni è chiaro che bisogna accorciarsi le maniche e fare parecchi conti bene questo video finisce qui questo è il penultimo della serie perché ne farò un altro invece sulle distanze delle stelle e dopodiché chiuderemo questa serie bene vi ringrazio di aver seguito questo video se vi piace mettete like se non vi piace mettete dislike ma se vi piace il canale di New Horizon non dimenticate di iscrivervi non dimenticate non dimenticate di iscrivervi